Un'esperienza gastronomica straordinaria, quella vissuta nel punto vendita di parabita di Nuova Redo, un cooking show con la testimonia all'Anna Falchi e gli chef Antonella Ricci e Vino Zogar. Occasione per presentare la sede rinnovata di un'azienda che da oltre 25 anni propone il top del design e dello stile, creando il giusto connubio tra i vantaggi di una grande realtà distributiva e quelli tipici del negozio specializzato indipendente. È anche un modo per coccolare i nostri clienti, accoglierli e diventa anche un'occasione per far visitare le nostre esposizioni e quindi per noi è anche un'occasione per farci conoscere meglio, per far conoscere tutte le ultime novità dei nostri prodotti, delle nostre nuove collezioni di arredamento e vediamo che la gente apprezza molto questo tipo di eventi e quindi cerchiamo di ripeterli periodicamente un po' in tutte le nostre esposizioni. Ci sono due piatti caldi serviti proprio con prodotti del territorio, quindi sempre salento, dei tocchetti di patate con dei pomodorini essiccati in forno e poi con della pancetta croccante. E poi abbiamo un vitello cotto a basse temperature con le herbe mediterranee, con un fondo di cottura e un'insalata di ortaggi. La cucina è un luogo di aggregazione, di compagnia che unisce la famiglia, gli amici, accadono sempre cose molto importanti intorno a una tavola, incontri di lavoro, incontri d'amore, amicizie, si consolidano tante cose, quindi per questo mi piace sempre sostenere l'arredamento perché è la casa, per tutti noi, soprattutto gli italiani, la casa ha un valore veramente molto importante, un simbolo. Grazie.